Impossibile non emozionarsi. Tra passi adrenalinici, vette da scalare e spazi aperti dove perdersi in una natura incontaminata, le attività outdoor sono pressoché infinite. Ed è qui, davanti ad un palcoscenico naturale di cotanta bellezza, che Dacia ha deciso di toccare le corde più profonde dell'animo dei propri clienti. È nella rigogliosa natura dell'alta valtellina che una carovana di 25 Dacia Duster si è immersa in avventure straordinarie alla ricerca dell'essenziale. Tutto è nato pochi mesi fa con un concorso, il My Dacia Road 2022 dedicato agli amanti dell'outdoor e soprattutto di Duster, vero protagonista di questa avventura. Partecipando si può vincere un weekend per due persone in alcune suggestive località di montagna. Ed ecco qui i 25 vincitori della prima tappa, nella splendida cornice della valtellina, Bormio. Abbiamo passato con i vincitori di questo concorso, del concorso My Dacia Road, un intero weekend scoprendo la natura, scoprendo il ghiacciaio dello Stelvio, facendo esperienze culinarie e no gastronomiche insieme e veramente scoprendo l'essenziale, cioè veramente stare insieme, insieme a un Duster e quindi condividere dei valori semplici ma essenziali. Tra le meraviglie di Borgo Glorenza, gioiello alto a tesino conosciuto da pochi, l'ingresso in territorio svizzero e il parco nazionale dell'Engadina si possono mettere alla prova le capacità del proprio Duster. Anche se diciamolo, con oltre 2 milioni di vetture vendute dal 2010, questo SUV non ha bisogno di dimostrare nulla. Il binomio tra look da crossover e prestazioni da fuoristrada lo rende infatti uno dei modelli più iconici del proprio segmento. Attraverso un percorso che ha più di 150 anni di storia ed è soprannominato dagli appassionati regina delle strade alpine, le 25 Duster hanno fatto un giro ad anello di 144 km, ad oltre 2.700 metri sul livello del mare. La spettacolare strada dello Stelvio, con i suoi 48 tornanti mozzafiato, ha regalato emozioni a chi, orgoglioso di possedere un Duster, ha messo alla prova la robustezza del proprio veicolo. Dacia non è nuova a questo tipo di avventure, ma ora lo fa reinterpretando i raduni in maniera diversa, perché il marchio stesso è cambiato, ne ha fatta di strada, ed oggi, con oltre 12 anni di successi alle spalle, risponde alle nuove tendenze di consumo attraverso vetture dallo stile essenziale che sintetizzano la strategia del marchio, che garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Una scelta semplice e intelligente, essenziale ma cool. In questo Weekend on the Road con Dacia Duster, pernottando a più di 3.000 metri d'altezza tra luoghi magici dove rilassarsi e riconnettersi con l'essenziale, lo spirito avventuriero e l'amore per la natura incontaminata hanno regnato sovrani, interpretando pienamente lo stile di vita di coloro che scelgono una vettura come Duster.